e buongiorno a tutti ragazzi oggi siamo tornati in questo nuovo video di FIFA pack open o FIFA food pack chiamatelo come preferite e praticamente io vi avevo già detto che già nel video di minecraft scorso avevo già deciso gli orari di quando fare il tutto cioè di quando far uscire i video di FIFA food pack di minecraft eccetera e ho deciso di far uscire il mercoledì aspettate che controllo sì il mercoledì è FIFA food pack mentre il sabato minecraft quindi mercoledì food pack non perdetevi gli appuntamenti e il sabato minecraft cosa che non vi ho detto nell'altro video e durante la settimana vi farò cioè vi posterò qualche video che ho fatto in voli con il drone perché io ho un drone e mi piace fare questi voli così e vedere anche fare delle riprese quindi ve le farò vedere anche a voi giusto durante la settimana non so un giorno ve le metterò il venerdì un giorno lunedì il martedì magari anche domenica perché il mio giorno è abbastanza libero di domenica però vediamo e va bene rimanete sintonizzati attivate le notifiche iscrivetevi al canale e poi lasciate un bellissimo like vi lascio andare avanti con il video ok signori signori eccoci qua con i giocatori della settimana dopo questa intro e ci sono dei bei giocatori con Hazard, Dante, Pogba, Vidal, Nangolan ce ne sono molti questa settimana e direi che sono gli stessi della settimana scorsa se mi ricordo però vediamo intanto ci andiamo ad aprire i pacchetti che ci sono vedendo il lightning pack in alto sotto alla barra bianca c'è buy packs e lightning packs che non si vede packs e my packs intanto andiamo in my packs ad aprirci qualche player raro e intanto troviamo subito un if ovviamente è malli perché non è un gran che sai nei rare player spec cosa vuoi trovare sì dei giocatori rari però sai che sì non c'è a fine una certa intanto vertonghen vertonghen troviamo poi continuiamo rare players allora basta salvio 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 dai dai non è male intanto andiamo ad aprirci un altro vediamo Evra Evra ok prossimo pacchetto oh vediamo ah no niente è Mariano quindi continuiamo Dembele signori Dembele anche Ballotelli nuovo niente male io direi di procedere con i rare players perché ne ho talmente tanti quindi scendiamo un po' di numero come vedete intanto begnato troviamo come vedete sono 118 vivo 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 adesso comparerà un'ambulanza ed è qui lasciando stare le cavolate intanto c'è zielinski kotes c'è kotes ok io mi aspetto tra più signori coche coche temi bezzum stavo dicendo una soddisfazione ma manco per niente proprio ah poi vi volevo dire mentre troviamo la mela vi volevo dire vi piace qua lo sfondo che vi ho messo oppure non vi piace lo cambio eccetera cioè ditemi anche voi se vi piace ve lo lascio ah questa volta non so se metterò la telecamera ma non credo di mettere anche la cam perché è un lavoro abbastanza grande se devo mettere anche la telecamera perché è così registro l'audio sì però devo registrare anche la il video dopo viene un problema che dira beh insomma che dira non è male bacambù bacambù diciamo che mangia il bambù no non si dicono queste cose continuiamo continuiamo intanto c'è una mosca qua che ronza mamma mia intanto troviamo giocatori con nomi incredibili smiling smiling troviamo pacchetto numero 107 andiamo ad aprirlo qualche soddisfazione ma insomma in chitarian diciamo che non è male bruma 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 salice non ce l'avevamo salice acugna signori acugna quindi numero 103 andiamo a vedere il pacchetto numero 103 il pacchetto numero 103 ci riserva un slimani un slimani pacchetto numero 102 che cosa ci dà il pacchetto numero 102 il pacchetto numero 102 ci dà serie tu voi siete serie bene verratti verratti non è male intanto troviamo un baffè adesso che ci apriamo vediamo un po' ma io direi sinceramente che ci possiamo aprire nonostante un new player spec e signori io adesso mi andrei a aprire qualche pacchetto così random vediamo 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 barzai vedete mi ha portato fortuna questo pacchettino random così bene signori dopo aver aperto qualche pacchettino cioè qualche un pacchettino quelli proprio random random randomici io mi andrei ad aprire mi andrei ad aprire un rare players che ce ne abbiamo 104 104 pacchetti di rare players e troviamo un Mkhitaryan subito nel primo pacchetto e ecco qua l'under che dira che rera scusate non che dira magari l'under herrera che ci spetta in questo pacchettino intanto uno strato da più ma tui di ma tui di non è male ma tui di non è male intanto pacchetto numero 101 al prossimo pacchetto bisogna mettere il rullo di tamburi quindi troviamo un fred intanto andiamo nei lightning pack ad aprirci un special pack dove troviamo subito un if che è origi intanto per chi non lo sapesse ci ho fatto un video su su questi dati cioè nel senso in un video vi parlerò di questi dati quindi pacchetto if pacchetto on to watch tutto quello che vuol dire ad esempio if come questo signori vuol dire in forma if in forma bene ve lo farò comparire sullo schermo intanto troviamo vidal vidal 88 mamma mia oh ragazzi quanto siamo potenti quanto siamo potenti andiamo avanti con un altro pacchettino oh signori ruolo di zamburi vediamo 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 intanto è un buon giocatore non mi dite che ho trovato nel mare ah no si può essere si dì ma chiego silva signori chiego silva in un pacchetto rail players non me lo sarei mai aspettato mai mai aspettato cioè davvero mai mai aspettato ah comunque mentre troviamo facebook vi devo dire qualche informazione e su instagram troverete gli screenshot che ho fatto dei giocatori forti che ho trovato quindi chi si perde dei pack opening vi farò degli screen e li metterò su instagram quindi seguitemi tutti su instagram adesso però devo ancora aprire il canale cioè nel senso il canale devo ancora fare la pagina instagram quando avrò fatto la pagina instagram che ho adesso ancora qualche ritardo vi dico quando potete venire a seguirmi e seguitemi su instagram mentre troviamo il boateng fasullo tra virgolette seguitemi tutti su instagram e intanto troviamo fernandinho fernandinho messaggio intanto rare players vediamo 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 samedos giovinco troviamo giovinco signori niente male giovinco è un giovinchello denis suarez oh buon giocatore è questo eh signori è un buon giocatore oh un guaiano difensore godin signori godin godin oh in questi pacchettini godin 88 ma chi se lo aspettava spiegatemi mamma mia oh andiamo ad aprirci un rare players oh brahimi intanto troviamo un son spagnolo coque signori coque 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 e sergi eric signori andiamo ad aprirci un tot pack e sempre tot tot quindi t o t w e ve lo dirò sempre in un video opportuno che significa titolar of the week che è i migliori della settimana team of the week titolar of the week conto ferite e intanto un altro di dal troviamo signori niente male e si sono praticamente gli if della settimana signori io direi che con questo pack opening siamo arrivati alla fine vi ho detto tutto vi ho detto che aprirò la pagina instagram quindi più avanti andrete a seguirmi su instagram e noi ci vediamo con un prossimo video ah nel mentre le squad battle challenge che ci sono io adesso ve le tolgo cioè non ve le faccio vedere però più avanti magari ditemi nei commenti se le volete vedere magari io ve le farò vedere qualcuna e comunque ciao ciao al prossimo video